I capraiesi praticavano tradizionalmente un'agricoltura di sussistenza e la pastorizia. Il vino e l'orzo locali venivano esportati sulla terraferma e scambiati con il grano, necessario per fare il pane. A questi mestieri si aggiungeva la pesca di acciughe, sardine e zerri, conservati in salamoia. Lo sviluppo della navigazione commerciale iniziò nel XVII secolo, quando, in seguito alla rivolta della Corsica contro Genova, durata dal 1729 al 1768, la marineria Corsa venne fortemente limitata dai genovesi. Gli abitanti di Capraia iniziarono così a interessarsi al fruttuoso commercio marittimo tra Genova, la Corsica e la Toscana. A Capraia venne sviluppata anche una tipologia particolare di barca, indicata come gondola, un'imbarcazione di piccolo cabotaggio adatta ai trasporti lungo il canale di Corsica. Dai documenti storici risulta che all'epoca del suo maggior sviluppo, a metà Settecento, la flotta capraiese poteva contare su circa 60-70 di queste imbarcazioni. Nel corso dell'Ottocento, molti abitanti dell'isola emigrarono soprattutto in Sud America. Con l'istituzione della colonia penale, le attività economiche cominciarono a ruotare sempre più attorno ai detenuti. Esisteva addirittura un negozio di barbiere gestito dai detenuti. Attualmente, la vocazione principale di Capraia è quella turistica, che nei mesi estivi porta la popolazione ad aumentare sensibilmente. Pur mancando di spiagge sabbiose, L'isola offre molte opportunità di escursioni in barca e di immersioni subacquee, grazie alle acque limpide e molto ricche di pesce. I fondali conservavano anche un sito di riproduzione delle cernie, purtroppo recentemente devastato da pescatori di frodo. L'interno dell'isola, ricco di alture rocciose ricoperte dalla macchia mediterranea, si presta alle attività di trekking, durante le quali si può osservare la fauna selvatica costituita da mufloni, cunigli e uccelli marini. Grazie a tutti.